Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi vi faccio vedere uno suoto da spesa che ho fatto alla Coop visto che è tanta roba, inizio subito Allora, ho preso il bitter biondo della Coop 1,15 euro poi ho preso due melanzane i pomodori questi oblunghi le zucchine chiare le patate queste della Coop le pere le mele e le arance queste in questo sacchetto così poi ho preso l'asciugatutto della Coop che viene 1,15 euro poi questi a 0,45 euro sono i tovaglioli poi il stare grosso questo cuore di mare questi panni molti usi anche della Coop mi sembra 0,87 poi i guanti 0,64 poi ho preso il tonno al naturale della Coop la Coca-Cola poi ho preso due tacchi di questa maionese calve che era un'offerta 1,07 euro anche questo ma non mi ricordo quanto era era un'offerta il ketchup poi ho preso il cocktail questo è frutta secca tosta pesalata poi ho preso il balsamo dopo labbra questa era un'offerta 2,49 euro poi una tanto vale tutto un'aranciata questa amara mi sembra di 0,80 euro poi una birra questa 0,45 euro 0,87 euro il latte scremato della Coop che era in offerta 0,87 euro poi ho preso due ricotte della Coop poi ho preso ancora uno ai biscotti questi 1,15 euro e poi gli yogurt questi che erano sempre in offerta non mi ricordo quanto seconda busta ho preso il cavolo verza poi ho preso il broccolo che era 0,98 euro al chilo al pezzo mi sembra al pezzo 0,98 euro 0,98 euro sempre le carote della Coop questa era in offerta 2 e qualcosa della felce azzurra questo aloe vera e limone poi ho preso due patti di questa pasta della Coop sono le sorprese e i tripolini poi ho preso questa salsa cheddar poi ho preso questo che è il gli odori misti per fare il brodo e poi in offerta mi sembra 4,40 euro non 5,40 le olive verdi dolci giganti che sono le mie preferite ho preso questi che sono i cornflakes al caffè della Serial Vit per me senza glutine poi ho preso 1,15 euro sarebbero le chips per sottomarca della Coop poi ho preso queste caramelle le alte live poi ho preso la spugna poi questi che sono i cruscoro poi ho preso due patti del grama padano dopo della Coop che viene 1,15 euro questo tipo di formaggio che è il till citer non so come si pronuncia una sfoglia rotonda della Boitoni senza glutine poi ho preso questa era un'offerta mi sembra 0,87 le panne venesi cop poi c'era il mascarpone il burro questo formaggio qui che è della Naturella uno di piaciuto cotto uno di questo che è il fiore di mediterraneo petto di zacchino con erbette provenzali che non ho mai trovato erano in offerta poi ho preso i tortellini della Coppa la carne 0,99 poi ho preso i crostinini della Toscana e la salsina dell'orto questa 0,87 questo 1,15 euro poi ho preso in offerta 7,90 euro al chilo questo che è il gran formaggio Italia poi ho preso in offerta questo che è arancia intensa il pistacchio croccante la cioccolata perugina poi ho preso sempre in offerta questa che è la nocciolata dei rigoni di asiago poi ho preso queste che sono le Kinder Maxi King no Kinder King Maxi che sono 1,83 euro mi pare 3 poi ho preso il macinato di polpa scelta un altro misto per fare il ragù un pacco di zucchero due confezioni di Wust e della Coppa che sono 0,42 poi lo stracchino questo non non ami la mocella ballelata che ho di latte queste che sono gli spaghetti quadrati della molisana vengono 1,15 euro poi l'amido di mais della Copp l'altro grana padano della Copp poi ho preso questo che è un trancio di festa di tacchino che era un'offerta e poi un altro di macinato questo di maiale per una ricetta che vuole fare mio fratello non so il preciso e poi in offerta ho preso anche il fluido corpo idatante rinfrescante della verde poi ho preso queste che sono le sottilissime mi sembra fossero un'offerta a un euro un euro e qualcosa a un euro e 62 mi dice qui poi ho preso la rosticciana con lo smarino e poi ho preso questi che sono i lupini della Copp che era in un'offerta ora vi faccio vedere i surgelati poi ho preso in offerta le patatine queste pizzole da fare al torno critte poi ho preso i miei pittellini primavera della Pulus due confezioni di cuore di nasello della Copp queste che sono le vasi bianche della si chiama forneria venterranea pre bianche 2,95 e poi ho preso sempre in offerta due di queste che sono due pizze alla pala che patatine vi ustera mi sembra in offerta 1,09 1,19 e poi a 2,29 se non so tutto ricordo male queste due pizze regine quadrate spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo ciao 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 You make all my dreams come true It feels right